e lesioni aggravate. Parliamo adesso di un tema che tocca milioni di lavoratori perché oggi bar e ristoranti non accetteranno i ticket i cosiddetti buoni e pasto, lo sciopero dei buoni pasto un modo per chiedere al governo di riformare il sistema e renderlo economicamente sostenibile. Pausa pranzo salata oggi per molti lavoratori che non possono utilizzare il buono pasto aziendale a causa dello sciopero di esercenti e ristoratori il primo in tutta Italia, non c'è convenienza denunciano bar, ristoranti e supermercati colpa delle commissioni imposte dalle aziende dei ticket e degli oneri finanziari circa 3 milioni di lavoratori pagano il pranzo con i ticket calcola Fipe, Confcommercio prima della pandemia ne circolavano in Italia 500 milioni per un valore di 3,2 miliardi di euro in questi due anni tra smart working e uffici chiusi ne sono stati usati ovviamente meno ma ora in ripresa gli esercenti minacciano lo stop in questa catena di supermercati del centro di Milano ne circolano almeno un milione all'anno Mediamente su un buono pasto da 8 euro non incassiamo poco più di 6 euro quindi il gap è abbastanza importante e la cosa che è maggiormente importante è trovare un tavolo di dialogo per poter continuare a dare servizio ai nostri clienti quindi agli utenti dei buoni pasto che molto spesso sono persone che lavorano nelle varie zone dove noi siamo dislocati con i supermercati questo ristorante in una zona d'uffici ha avvisato i clienti dello sciopero ieri oggi tanti tavoli sono vuoti prima le condizioni erano come quelle di una carta di credito 1-2% al massimo con pagamenti abbastanza veloci con un rapporto stretto con l'azienda adesso invece è tutto in telematica devi stare attento se sbagli una fattura rischi di non incassarla per 6 mesi i buoni portano clienti però se non ti portano poi se non ti lasciano nulla è inutile stare lì ad avere un personale in più per servire a questi clienti è stato aperto un tavolo di concertazione con il vice ministro dell'economia Laura Castelli le commissioni toccano il 20-30% denuncia Federdistribuzione sono le più alte d'Europa grazie a tutti